Ciao Empoli, oggi in Comune abbiamo continuato a lavorare per gestire al meglio l'emergenza Covid-19 sul nostro territorio. Di oggi sicuramente i temi più importanti sono il mercato alimentare e il ricevimento degli assessori. Sul mercato alimentare, come abbiamo detto ieri, oggi abbiamo fatto un incontro per riprogrammare dal 4 di maggio la riapertura di tutti i mercati alimentari sul nostro Comune, sia quelli di frazione sia quello del giovedì. Nella stessa riunione abbiamo poi ipotizzato alcune misure di sicurezza per farci trovare pronti quando potremo ripartire con tutto il mercato, in modo tale da far lavorare tutti. L'altro tema importante è il ricevimento degli assessori. Da domani troverete online sul sito e sulla pagina Facebook del Comune i contatti telefonici per fare ricevimento con i cittadini. Abbiamo deciso di ripartire con questi ricevimenti per permettere a tutti i cittadini di avere un contatto diretto con l'amministrazione e contribuire con noi a far ripartire Empoli da questa emergenza. Questi sono gli argomenti più importanti che riguardano la giornata di oggi. Ci vediamo domani con le nuove attività.